Mancata sorveglianza sanitaria e presenza di un lavoratore sprovvisto di regolare contratti. Queste le violazioni riscontrate durante un controllo svolto a Torre Melissa, presso un bar cittadino, dai carabinieri della compagnia di Ciro Marina e dal nucleo carabinieri spettorato del lavoro di Crotone. L'arma dei carabinieri, sempre attenta al contrasto del lavoro nero e sommerso, nonché al rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare attenzione agli esercizi pubblici, esprime regolarmente controlli congiunti tra le stazioni carabinieri e reparti speciali, composti da militari altamente specializzati. Il titolare dell'esercizio, che è stato provvisoriamente chiuso, è stato sanzionato con ammende per un totale di circa 7.500 euro ed è stato segnalato alla Procura della Repubblica di Crotone. Il GICO del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della GDF di Milano sta sequestrando, con la polizia locale, quattro società che gestiscono locali di ristorazione all'interno del mercato comunale milanese, nel quartiere Isola, zona della Movida, in un'inchiesta del PM della DDA Silvia Bonardi sulle infiltrazioni dell'Andrangheta, che ha portato anche ad un'ordinanza del GIP Sonia Mancini, di custodia cautelare in carcere per 14 persone, indagini con al centro la cosca dei piromalli di Gioia Tauro e le accuse di associazione mafiosa, estorsione, rapina, trasferimento fraudolento di valori e traffico illecito di rifiuti. È ritenuto l'autore dell'incendio di un furgone abbandonato avvenuto a Reggio Calabria nel pomeriggio dello scorso 12 marzo. Un 58enne incensurato è stato denunciato in stato di libertà dai carabinieri della compagnia di Reggio Calabria. Nel pomeriggio di poco più di un mese addietro i militari intervennero su segnalazioni di alcuni cittadini perché un furgone abbandonato e privo di segni identificativi era stato dato alle fiamme nei pressi di un'officina senza fortunatamente arrecare danni alle vicine abitazioni, alle altre autovetture, ma soprattutto senza propagarsi nelle adiacenti aree verdi. Nulla però avevano potuto fare i vigili del fuoco per salvare il veicolo, che venne totalmente distrutto. Le indagini, avviate immediatamente, hanno portato all'identificazione del presunto responsabile che, secondo quanto è emerso, prima si sarebbe avvicinato con fare sospetto al vano motore del mezzo e, dopo poco, si era allontanato mentre il furgone iniziava a prendere fuoco. Ancora in corso le indagini per accertare le cause reali del danneggiamento.